Sono già tre ore che sono seduto qua, alla madonna L'insalata pane, l'insalata pane C'è qualcosa che non va, si apre la porta o cazzo chi è? Ciao a tutti, ragazze e ragazze, benvenuti su Gioca con Mike Vi ricordate? Araia? Sì? Ripartiamo con Araia ragazzi Hello! Vediamo cosa possiamo fare, non te ne scappare Ho messo già le telecamere? Cosa devo fare? Cosa è la prossima? Tu devi andare al toilet, ho messo un libro là, sicuro che lo hai Ok, ho messo il libro nel bagno, questa idea è molto scema Ricordati che mi devi un sacco di soldi Ok, 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 sì, ti toglie tutti i debiti se avrai successo Cavolo succede con questo telefono? Cavolo me ne freb, basta che fa luce Basta che fa luce Vai al bagno Sì, andiamo al bagno Ok, c'è qualcuno qua Che è l'elettricista? Ok, ancora là Oh, oh, ci vede, ci vede È scomparso È scomparso Adesso è scomparso Ok, la polizia dice che hanno trovato il corpo del teenager Ecco, ci mancava la metà della testa, ragazzi Questo è quel tipo che ho visto nel video di prima, allora Nella parte 3 o 4 Quello che mi era passato davanti Chiuso Chiuso, come sempre Aperto Stavo dicendo chiuso Dobbiamo vedere qua in giro se troviamo qualcosa Apriamo Cazzo era La chiave Chi era? Maledetto Ok, chiave Tranquillo Tranquillo, non è successo niente, ragazzi Stavo là cagando Forse si vergognava un po' Corrente Bagna delle donne Cazzo è successo? La corrente Mannaggia la miseria Hello? Hello? Can you hear me? Ebbè, rifacciamo tutto, ragazzi Hello? I'm upstairs Hello? Don't even think about running away Cos' I already set up the cameras in there I know, I know What's next? You need to go to the toilet I left a book there Make sure you get it This mission is fucking stupid Don't dare chicken out on me now Remember that you still owe me a lot of money I'll write off all your debt if you succeed, mate Boom Ebbè, no? Ebbè, no? Ebbè, no? Ebbè, no? Di bambè, no? Bambè, no? Ebbè, no? Ecco qua Siamo qua Mannaggia Non ci credo È la madonna di nuovo Ripartiamo Ok siamo arrivati qua Ho preso una barchetta Niente di interessante ragazzi Niente di interessante Ah qua la chiave Mannaggia la miseria Che è successo? Ah ho spento Ok ho spento la corrente Perfetto Perfetto Spendo la corrente Allora Continuiamo Apriti Ok abbiamo spento la corrente Qua c'è il quadro di Picasso Qua Entra Ah Ecco dove erano Mannaggia Ah Look for C'è un canto Stato il ritual Prendi una cantella Per iniziare il rituale Che rituale devo fare? Ok devo andare qua Ok Chiave Prendiamo Bravo Ma perché chiudete le porti Mannaggia Che v'ho fatto? Si chiudono da sole Oh C'è qualcosa qua da leggere Madonna Troppo lungo Non lo leggo ragazzi Non me ne frega Che è successo Ok Che cos'è? Calmati Calmati Ragazzi Ragazzi calmatevi Che so ste cose Madonna santa Maledetti Mi fanno cacare Non è che mi Madonna Perché si aprono da sole Si chiudono Si aprono Che è qua? Ah Aspetta un po' Light Intense Ok Today Final L'hospital L'ho lasciato all'ospedale Eh Il giorno è bruttissimo Di quando sono venuto qua Sì sì Ho capito Una chiave Queste cose mi interessano Lascia fregare Quello che c'è scritto Allora Candela Perché non la posso prendere? Perché non va? Devo giocare qualcos'altro Devo cercare Bello Che è Vietnamese Kim Long Ok Ho capito Devo cercare qualcos'altro Andiamo forse qua Ah Aperto Minchia ma ha chiuso la porta in faccia Bastardo Vieni qua Pure tu Minchia vi prendo dopo Maledetti Ecco qua La candela Perfetto Questa Apriti Apriti Che cazzo è? Ah La po' Minchia sembrava una faccia Sta cosa qua Ah Ah Ecco Che cavolo è sto cosa? Sicuramente viene qua Lo sapevo ragazzi Lo sapevo E mo? Ecco Si è chiusa la porta Tanto Non abbiamo fatto Di strada Fino a qua Oh La sedia Sit Ah Sediamoci Se vuoi che mi sedo Facciamo sta cosa Bravo Che è successo? Ah La canzone Tan 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 Sono già tre ore che sono seduto qua Alla madonna L'insalata pane L'insalata pane C'è qualcosa che non va Si apre la porta Oh cazzo qui è? Calmati Oh Micchia Piedi Piedi Tanti piedi Ho finito questo Che è? Prendi qua Smettila E bussa Se n'è andato Se n'è andato Il momento Mi sbucca qua Sicuramente mi sbucca qua Quel tipo ragazzi Sta voce E questo gioco È pazzo È pazzo È veramente pazzo Calmatevi La madonna Che devo fare? La luce Voglio la luce Ragazzi Ah No Pensavo Già È troppo contento È troppo contento Madonna Ragazzi Si muove Si è andato Mi sono svegliato Oh cazzo Ero io sul letto Ero io il tipo sul letto Ah Si è calmato tutto Ah Che bella cosa Cazzo Oddio Sto avvenendo qualcuno Sto avvenendo qualcuno E mo dove vado Andiamo qua Andiamo qua È chiuso È chiuso È chiuso Mannaggia la miseria Per fortuna sei lento Oh cacchio C'è la porta aperta C'è la porta aperta C'è la porta aperta Oh cazzo Là c'è qualcun altro E mo Forse è andato questo Se è andato Se è andato Oh cazzo È qua Madonna santa Corri 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 Ah questo è Rama Rama Vieni qua Rama Tua sorella maledetta Che fa la pasta Chapter 4 Madonna santa Wake up Ok Wake up Marissa Ragazzi e ragazzi Finiamo qua Allora il chapter numero 3 Di Araia Spero che vi sia piaciuto Come sempre Iscrivetevi un bel like Condividete il video Con i parenti Con tutti quelli che conoscete Ragazzi Ci vediamo Il vostro gioco Con Mike Nel prossimo Chapter 4 Ciao ciao